E' atterrato direttamente sull'eli superficie del Policlinico Universitario di Roma, a bordo di un eli soccorso della Regione Lazio, proveniente da Pesaro, un paziente sessantenne in condizioni gravissime a causa del Covid-19, che ha compromesso in maniera così massiva l'attività polmonare da rendere necessario il trattamento salvavita in ossigenazione extracorporea, che vede nel campus biomedico della Capitale un centro di riferimento. Estremamente veloci, connessi all'evoluzione delle condizioni cliniche del paziente, le attività di contatto della Centrale della Protezione Civile per trasferire il pesarese, già in terapia intensiva e bisognoso di altri trattamenti emodialitici, in un centro attrezzato per attività ad alta complessità, come la terapia di ossigenazione extracorporea. Nel nostro Policlinico Universitario, al Campus Covid Center, abbiamo la possibilità di trattare fino a nove pazienti in circolazione extracorporea. Siamo stati contattati ieri dalla Protezione Civile e dal 118 Regione Lazio. Questo paziente verrà immediatamente sottoposto a questo trattamento di estracorporea all'air support, ma sarà sottoposto anche a trattamento dialitico, in quanto il paziente è anche in insuffienza renale acuta. Grazie a tutti.